Per Io resto a casa vogliamo consigliarvi una serie di bus, si tratta di Secret City, una serie australiana incentrata sulla proiezione della Repubblica Popolare Cinese in Australia. Ambientata tra il Parlamento di Canberra e il Servizio di Intelligence australiano, la protagonista è una giornalista ben cosciente del declino della carta stampata e dell'importanza dei social media per il giornalismo investigativo. Ci sono molti elementi interessanti, innanzitutto quello tecnologico, la tecnologia è onnipresente, c'è un discorso, quello sulla sorveglianza attraverso la tecnologia che oggi è molto presente sui medi e che è veramente delineato in maniera ottima. Poi c'è quella che è la politica internazionale, siamo negli ultimi anni del mandato Obama, quindi c'è questo pivot to Asia e c'è l'Australia che è in qualche modo schiacciata da questa proiezione statunitense ma soprattutto dall'aggressiva azione della Repubblica Popolare Cinese in terra australiana. Potete trovare la serie su Netflix.